Sono sei le partite di campionato sino a qui disputate dall'Atalanta Under 23 che in questa categoria, la Serie C, lo ricordiamo, è una debuttante. Sei giornate poche ma sufficienti a capire tutte le difficoltà di questo torneo, nel quale la formazione Under 23 Nera Azzurra si sta comunque ben disimpegnando. Sì, sapevamo delle difficoltà che potevamo incontrare, essendo una novità, anche per tanti ragazzi la categoria è nuova, quindi conoscendo le difficoltà stiamo cercando di lavorare, i ragazzi cercano di migliorare giorno dopo giorno, cercano di mettere esperienza che fosse quella che serve in questa categoria. Siamo convinti di aver invocato la strada giusta e con un po' di pazienza riusciremo poi a ottenere i risultati che la società e tutti speriamo di ottenere. Serie C, campionato difficile nel quale militano squadre ed esperienza con giocatori tosti. Basti pensare che con il Vicenza nell'ultimo turno di campionato tra i due undici c'erano oltre 80 anni di differenza. Campionato difficile, molto fisico, dove anche l'esperienza, la furbizia, giocatori smaliziati in Serie C, ma da quel punto di vista noi paghiamo un po' di inesperienza, ma lo sapevamo, però stiamo tenendo testa a tante squadre, stiamo crescendo. La vera Under 23 la vedremo più avanti perché piano piano stiamo mettendo esperienza, un po' di malizia la troveremo giocando e quindi penso che dai la strada è questa e butteremo i risultati. Sono convinto perché abbiamo dei ragazzi già predisposti a imparare, a migliorare e a soffrire. Sabato si ritorna in campo per l'Atalanta Under 23 il derby con l'Albino Leffe, per Giuseppe Biava un ritorno al suo più recente passato. Sì, è la squadra che sono cresciuto calcistivamente da giocatore, poi anche da allenatore sono partito da lì, ho fatto cinque anni di settore giovanile, poi l'anno scorso la mia prima esperienza in prima squadra. È stata una buona esperienza nel settore giovanile, ho fatto anche buone cose con ragazzi che mi hanno seguito e abbiamo vinto anche un campionato di Beretti di primavera e anche per me sarà emozionante ritornare perché poi, come ho detto prima, ho fatto una vita lì da giocatore e da allenatore e è sempre particolare ritornare a incontrare l'Albino Leffe. Che partita sarà Atalanta Under 23 al Bino Leffe? Difficile come tutte le partite di questa categoria, poi è un derby anche se magari non è sentitissimo però è confrontarsi contro una squadra che conosce la categoria da anni, giocatori anche esperti a me sotto quest'anno, quindi è una partita tosta ma se noi giochiamo come sappiamo e come abbiamo dimostrato altre partite possiamo dire sicuramente la nostra è un buon risultato. Grazie per la visione!